Andiamo via, giro turistico per la pista di meglio 2021 Andiamo, andiamo Qui si vede tutta bella pulita Contanto è da due anni che nessuno ci passa più Allora, la prima difficoltà è il muraglione Come si vede tutta bella pulita, liscia, perfetta Cogluno può decidere dove passare, dove c'ha voglia Bella Qui l'altra parte di discesa No, c'è discesa Prima mezzo Qui la luspa deve ancora passare, passerà in settimana a sistemare Come vedete, è sempre fattibilissimo Voilà Mamma mia Adesso arriviamo all'ingresso della mia Iesi E ve la facciamo vedere qui questa E anche qua deve ancora ripassare il ragno per aggiungere il rischio Indolcire tutte le cose Ora, sì E questa qui è la seconda difficoltà E va meglio Andiamo dalla parte bassa Ok Qui vedete che qua è una bella liscia, un'asperta Un miliardo Qua si prende un po' di minuto di velocità E' una bella Sto facendo fatica per me Fatica Sì, mi sa Sì 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 Santino Santino Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete, bella liscia, pulita anche quella. Hanno sistemato l'uscita che era bruttissima. Grazie a tutti. Buon appetito. 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 Buon appetito.